Torino, 13 ottobre 1996, ore 14.45, eclissi di sole, il mondo si ferma. Ora 16.55, il mondo ha ricominciato a girare. Che palle. Era tutto un complotto. Mio padre, la colazione, la scuola, quelli sul tram, quelli a piedi, i marciapiedi. Tutti con lo stesso obiettivo, rovinarmi l'esistenza, fregarmi. E io cercavo di fregarli a modo mio. Come? Ero libero. Libero. Libero nel senso che non avevo un cazzo da fare. Super facente, scurritò sua mente. Super facente, scurritò пр gera che. Nessun contoro da princesa, segretà che si sprovbili. Siamo la mia preghia. Nessun contoro da princesa, spav trailerà. Prattò da princesa, segretà che si sprovbili. Mi piacevano i libri perché nei libri tutto è chiaro e bello anche quando è brutto. Mi spiego? Mi spiego. Quelli che ti fanno stare male, ti fanno stare male bene. Anzi, più ti fanno stare male e meno male sto. Mi sono spiegato? No. Il fatto è che nei libri con le donne, ad esempio, succedono cose fantastiche. Uno sguardo e lui e lei si mettono insieme per tutta la vita o per una notte che vale come una vita, grandioso. Sì, tu prova a farlo nel mondo vero e se non finisci in questura è già un mirarbo. Che cazzo vuoi? Tanto finirei per sposarti con un commercialista. Aria. Non vedi che è già tutto scritto nella tua vita? Aria. Bella. Io ti avrei fatta felice, forse. I miei coetanei, dicevano i giornali, cominciavano col sesso orale a 14 anni. Avevano rapporti completi a 16, a 18 delle donne ne avevano le palle piene e diventavano o impotenti o serial killer. Per evitare danni a me e agli altri, io ero vergine, così almeno non dovevo preoccuparmi dell'eiaculazione precoce. I Savoia avevano fatto tutto quel casino, il cosoli, il risorgimento per mollare questa città e andare a Roma. Invece io a Torino c'ero tornato dopo 15 anni a Roma con mia zia e non avevo in tasca una lira. Mia madre era ancora malata di nervi, ma adesso, dicevano i dottori, socializzava. Con me e con mio padre no, di sicuro. Oh, Walter, a me cerca di stare allegro te che sei giovane, biglio, bordo. Allegro un cazzo, papà. Ma se il grigio gli restava attaccato addosso alla gente del mio quartiere, tipo una bronzatura al contrario. Allora saltavo di nuovo sul tram e riprendevo i miei giri in centro. La mia consolazione erano i commessi. Adoravo i commessi. Anche se prendevano uno stipendio, quella era gente che stava peggio di me. Insomma, leggevo, pensavo, fantasticavo. Ero il padrone del mondo. Il mondo. Torino. Ho parlato col caporeparto lì alla verniciatura. Dice che coi diploma omecciate ci sarebbe in modo di imboccare. Perché vedi, i figli dipendenti in fabbrica hanno una via preferenziale. Preferenziale, certo. Non sei voluto diventare commista. E non hai voglia nemmeno di fare soldi. Ma che bestia saresti? Ma va a fare... Per fortuna c'era Caterina, mia zia. Ma come ti è venuto in mente a te di tornare? Non lo so. Succede. A questo punto ti capita di voler tornare? Sarà. Però con i soldi che aveva fatto vendendo mobili indonesiani, lei almeno si era comprata una cascina in campagna. Comunque, dopo 15 anni insieme, era l'unico bipede con cui avessi una relazione umana. Ehi, il concerto di chi porti? Ma erano finiti. Rinaldo, mio ex. Adesso fa il promoter per i concerti. Rinaldo, eh? Un grande. 1,60 al massimo. Emma, ci vediamo domenica. Mila lino a colletto. Comportati bene. Ciao. Dimenticavo. Nel complotto c'erano anche loro, quelli del ministero e quelli delle poste. La chiamata alle armi mi arrivò con quattro anni di ritardo. Sta su. Sulla tente. Guardami. Oh, che fai? Ti rialzi. Ma te tocchi. Io tocco? Stai sulla tente. Ma come hai detto? Te tocchi. Tu tocchi. Che stiamo stati a scuola insieme? E allora? 22 anni. 22 anni non avevi ancora passato la visita militare. Ma ti rendi conto questa roba da galera? Perché è colpa mia? Eh, muovete, che è colpa mia? C'è un ministero. Eh, già, sempre colpa di quelle del ministero, eh? Comunque, andiamo avanti. Pressione. Buono. Certo. Ma tu dà come deve essere la pressione. Buono. Malattie infettive? Ti è. Che fai? Ti tocchi. Ti è. Stai sull'attente e porta rispetto. Ti stai mettendo malissimo. Guarda, partiamo proprio male, male, male. Malattie infettive? Ti è. Mai fatto uso di... Stopefacente? Mai fatto una canna invitata? Mai. Sabato sera con la ragazza? Mai. Bravo. E sull'attente quello? Stai sull'attente. Così. Hai... Come dire? Pulsione omosessuale. Aspetta. Avete quella lì? Avete quella lì? Cioè quella lì e me, no? Tu come ti... Come ti puoi? Come ti senti? Che fai rire? Non ha... Pulsione omosessuale. Ma è bene. Che a te militare non toglieva nessuno. Jamestine. Come si fa a partecipare al concorso? Quale concorso? Quello lì. Un concorso per ufficiali. Ah. Siete graduati in famiglia? No. Politici, qualche prete, una sorella come quella. E allora senti a me, lascia perdere. Protettori non ne avevo, sorella disponibili tanto meno. Salutai il dottor Falco e decisi di assumere informazioni sull'esercito direttamente dall'interno. Terza compagnia Doberman, ventunesimo battaglione motorizzato Alfonsine, provvisoriamente distanza a Cuneo, Rossi Mario Detto Marione, 144 giorni all'alba. Obietta, parte lì. Obietta perché io la faccio più, parte lì ci ho provato, niente. Mi hanno preso, 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 mi hanno preso a visita, mi sono preso di tutto, parte lì, di tutto, niente. Questi ce l'hanno creduto, parte lì, mi sono preso l'Exxon, Playg, Tavor, Aspinacaco, di tutto, mi sono preso, parte lì, niente, parte lì, questo non c'è casca. Noi sono primi, sono preso, poi mi sono preso, la faccio più, io non ho perso essere preso, non le canne, mi sono preso, mi sono preso, la faccio più. Mi sai che ora, quando una Roma prende la laurea in farmacia, perché, oh, voglio dico, ormai conosco tutti i quartier, l'Exxona, Playg, Tavor, tutto insieme, niente. Allora stava sbloccando, perché mi rendono perché questi sono tutti i giorni di tachicardie, le cose, capito? Mi mi devo far preso, mi mi faccio più, mi farò, capito, quartier? E' un problema un altro, che ti devi abitare un'attesa, stai bene, quartier, ti ero con gamba, un'attesa, sei contento? L'incontro con Marione non mi lasciò a dubbi. Cercai e scopri dentro di me profonde motivazioni ideali e morali per l'obiezione di coscienza. Ciao. Ciao. Vorrei fare l'obiettore. Anche tu vuoi fare l'obiettore? Devi fare domanda presso il Ministero di Roma con la tana grafici, la residenza e i motivi per quei obietti. I ragazzi sprizzavano cordialità da tutti i pori. Poi devi indicare l'ente presso cui vuoi lavorare. Grazie. Quella è la lista. Conosci qualche presidente? Funzionario? La domanda mi suono familiare. Operatori culturali, assessori, giornalisti. Ma chi cazzo conoscevo io? Peretti operai? Beh, allora per queste associazioni non c'è niente da fare. Trovati un gruppo con poche richieste. La sottoscrizione è libera. Grazie. L'ultimo nome della lista mi balzò agli occhi pieno di promessi. Un attimo arrivo, eh. Scusi ma mi sono andato a portare Belfa con il mio cane che stamattina si è alzato col piede storto, allora mi dica. Devo fare una raccomandata. E una cuccia bene, sì. Per dove? Roma, Ministero della Difesa. La vuole con la ricevuta di ritorno? No, grazie, è semplice. No, guardi che è meglio. Grazie, vorrei una raccomandata sempre. No, è più sicura. Forse, forse, però io mi ostino. E anche più veloce. Non ho parenti alle poste. Non conosco nessuno le telecomunicazioni e non ho rapporti con i poste legrafonici. Fammi questa raccomandata semplice, se no ti ammazzo il cane. Non l'accia Belfador, che animale è questo. Vabbè, facciamo questa raccomandata semplice. Ecco qua. Uno, due. Fanno 4.150. E non ho il resto. Non c'è problema, non c'è problema, tienilo, grazie. Oh, Star Trek, ti volevo solo aiutare. Prendi queste 5.000, Belfador. Ebbene sì, anch'io ero uno studente. Esami sostenuti in due anni, nessuno. Ma non c'era niente da fare. L'università mi stimolava. Sarà stato l'ambiente, la vivacità culturale, il fermento intellettuale. Oh, ma ci credi questa ma, Fedor? Eh? Che cose ci stiamo facendo qua? No, i libri li devono vendere a qualcuno, no? E proprio a noi ce li devono vendersi, le libri. Ecco. D'accordo, sì. Non c'era da farsi troppe illusioni. Però ogni tanto speravo di incontrare qualcuno come me. Un simile. Che so, un giovane poeta filosofo. Sono Alessandro Castracano. Sono un giovane poeta filosofo. Sto inviando questa videolettra a tutti i miei compagni di corso. A quelli davvero interessati. Dio è morto, diceva Zarathustra. Ecce omo. Sono contento che sei venuto. Sei l'unico, sai? Non che avessi voluto di meglio, anzi, pensavo non venisse nessuno. Questo mondo fa orrore, non credi? Ah, sì? La ricchezza fa orrore. L'umanità fa orrore. Hegel fa orrore. Hegel. Certo. Potenza? 320 più 320. Cazzo. Noi dobbiamo tramontare. Ovvio. Come sostiene Nietzsche, capisci? E possiamo farlo solo attraverso la poesia. Il più osceno girotondo ha gambe spalancate e gridano sconciamente inebriate. Fatti sotto, fatti sotto, ascolta! Io sono quel signore. Mi vennero in mente due considerazioni. Quel signore che vive in quel castello, mi ricordo un sacco in quel momento. Due, là. Se lo vuoi permettere. Là. Noi siamo ancora a fare sciopero per le pensioni e gli allelli di Saturno si stanno sciogliendo. E te? Oh, non vuoi parlare? Guarda, guarda, che io starei cercando il famoso dialogo. E no, eh? Oh, cazzo. Ora, te mi stai a sentire, capito? Per te, guarda, c'hai un piccolo problema. Te non sei troppo normale. Ci risiamo. Dove vai? Vado a parlare con mia madre? Vabbè, lasciamo aperte. Ora, voglio dire, alla tua età tutti più o meno cercano di fare un lavoro, di comprasse un'automobile, vedano se possano far carriera. A parte questo, te non hai neanche una ragazza. Eppure, tanto frocio lo mi sembri. O mi sbaglio. Sbagliarci si sbagliava. Però, pur di fargli rabbia... Guarda, io lo so che tipo sei te, se. Te non è che non riesci ad essere normale. Te proprio non vuoi essere normale. Sì, ma cosa ti credi? Che il mondo sia... Oh, io non sono normale, forza, mandatemi un milione a casa. Bisogna prendersene le proprie responsabilità, capito? E che dovrei fare? Diventare come te? Giovannino, io lo so cosa pensi di messa. Te pensi che io sia un mezzo fallito, un bischero? E di fatti c'hai ragione perché è trent'anni e lo piglio nel bocciolo e ancora non finito. Hai idea di quanti sono lunghi trent'anni? Comunque, biondino, oggi come oggi, solo con i soldi si può comprare anche la libertà. Guarda, io l'ho fatta di cazzate. E me l'hanno fatta pagare anche tutte fino a un fondo. Ma almeno io mi sono levato la soddisfazione di non dargli la pinta, capito? E' qui che sbagli. Tu non hai fatto niente. Volevi fare la rivoluzione, invece non sei stato capace nemmeno di tenere in piedi una famiglia. Avevo cinque anni. Walter. Miracolo. Mia madre parlava. Me ne vado. Non posso più restare qui. Sì, e dov'hai? Vai dalla fruzzia a piangere, vai se hai coraggio. E' torna, Tori. Certo che andavo da Caterina. Se lui l'aveva preso nel bocciolo per trent'anni, io non ci tenevo, Grazio. E non era solo perché lei faceva una vita meno schifosa. Quando si era ammalata, me l'aveva scritto. Tirarti su mi ha insegnato a prendermi cura di qualcuno. Sarò sempre in debito con te, Walter. Poi dal tumore era guarito e non se n'era più parlato. Non c'era bisogno di parole. Ma come? Ma avevo detto che funzionava. A me mi ha stressato. Fare un cazzo per non fare un cazzo mi misi a scrivere. Di quello che vedevo, della città, della gente. Mica volevo diventare chissà chi. Ma era come leggere libri. Parlare di mente a questa persona mi faceva sentire meglio. Cominciai a buttare giù certi incubi della mattina presto. Quelli che ti vengono a trovare con un occhio semiaperto. Tipo... Walter Verra, il giovane paleontologo, svela il mistero della scomparsa dei dinosauri. L'arrivo di una specie di predatori più aggressiva e spietata. Gli assicuratori. Buongiorno, sono un assicuratore. Lei è giovane adesso e non ha problemi. Può sembrarle un po' prematuro forse, ma non ha mai pensato ad un programma pensionistico sicuro e di alto rendimento? Cosa ne dice, eh? Ma veramente io per lei avrei pensato a qualcosa di particolare. Ritornerò! Gongorzolo, gamberetti. Sul solito. Quello che costa meno. Sul solito. Da Fiori andavo perché ogni tanto mi facevano credito. Purtroppo ci si esponeva il rischio di certi incontri. Walter! Ecco Valeria, vedi? Come va? Non può che non ti vedo. Sono stata un sacchi in giro. Piace la mia doxdola? Bellissimo. Lo sai quanto ci tengo io al look? Ma che fai? Mi prendi in giro? No. Ci vuole personalità nella vita. L'iniziativa. Guarda mio padre. Non faceva il tornista? Pensionamento anticipato. Con i soldi della liquidazione ha rilevato un bar e poco dopo hanno trasferito la nagra a Feli Vicino. E allora lui sai cosa ha fatto? Ha messo mia madre e mia nonna in cucina e adesso fanno un sacco di soldi con i pannini per la pausa di mezzogiorno. Lo dicono anche in tv, ci vuole spritza di iniziativa. Ma il culo. Cosa? Mamma come l'ha presa? Mia madre è felice, fa quello che faceva prima a casa, però in più adesso la pagano. Senti, ci vieni domani sera allo Space Lab? No. Dai, oh, cosa c'hai da fare? C'è un altro impegno? No, non ho niente da fare. Allora, vieni allo Space Lab, ti lascio un invito alla casa così non paghi la priera, una mia amica e tu vieni allo Space Lab, ok? Ci vediamo domani sera. Amore. Il lurido, il più popolare spacciatore di estasi e cocaina dell'università. Valeria era diventata una delle sue fidanzate. Quanto a me, ero contrario alle droghe sintetiche. Mica per il principio. Ci stavano troppo. Ciao, Walter. Ciao. Come stai? Andare siamo anche tu? Sono tesissimo. Dicono che tre più non scherzi. Lo so. Io continuo a dirvelo che tutto questo è apparenza, ma è da stamattina che vado al cesso nei cinque minuti. Voglio dire, se noi fossimo davvero in grado di applicare tutto quello che ci insegnano sui libri, non ci sarebbe più bisogno di voti, esami e tutto quanto il resto, no? Perché siamo qui? Perché vorremmo essere tutti degli eroi, ma in realtà siamo solo degli schiavi. così per lo zaratustra. Povera ragazza, eh? Così ben personale e così poca personalità. Dispiace. Il professor Treppi, meglio noto come? Verra. Il sanguinario. Perché certi incontri capitano sempre nel momento sbagliato? Buongiorno. 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 Lei è il primo esame, vedo. Che studi ha fatto? Ragioneria. Ragioneria? E studi ha filosofia. Interessante. Beh, allora le farò una domandina facile, facile. Mi preparai al peggio. Mi parli dell'esposizione del concetto di tempo in Kant, paragrafo 5 dell'estetica trascendentale. Ecco. Guardi che il paragrafo 5 in Kant non c'è. Ah no? Interessante. Vuole venire lei, ragioniere, a insegnare al posto mio? Se vuole può controllare. Controllo. Dove ha fatto queste fotocopie? Alla biblioteca nazionale. Interessante. Prende nota, signorina, che alla nazionale hanno la prima edizione dell'estetica, quella senza paragrafo 5. Kant l'ha aggiunto soltanto in quella successiva. Dal suo punto di vista, quindi, lei ha ragione. E il mio esame? Si compri il mio manuale e torni tra un mese. Le giuro che le farò la stessa domanda. Avanti il prossimo. E anche Kant era sistemato. Che altro poteva capitare? Ah, è arrivata anche questa. Per lei. Ah, ecco. La lettera dal ministero. La mia domanda di servizio civile era stata accettata. Sull'onda dell'entusiasmo... Castraccando. Decisi di andare in discoteca. Le discoteche sono come le chiese. Predi e DJ si dannano l'anima per convincerti che tutto va bene. Tutto è bellissimo. Siate felici. Ci pensiamo noi. Io in chiesa e in discoteca ci andavo una volta l'anno. In chiesa si moriva qualche parente. In discoteca oggi. E più o meno con lo stesso stato d'anno. È stasera che si inaugura... Si. Permesso... Come mai non c'è nessuno? È sabato, l'ho ancora preso. Ma sarà l'uno. Ma che ora arrivano di solito? Di solito alle due. Che ne so io. Sono i coglioni che arrivano prima. Bravo. Je ne so io. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai, cazzo! E prova a divertirti una volta tanto. Guarda qui intorno, ha fatto una ragazza. Spira sotto, come questa, guarda. La conosco, è una mia amica. Eh? Se la presento? No, 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 no. Non so, preferisci ragazzi? Ti lascia, ti lascia sento un vino. La lascia stare. Insomma, non ti va bene niente. Non posso, non posso. Ma come non puoi? Perché non puoi? Beh, sono vergine. Cosa? Sono vergine. Sono vergine. Vieni con me. Vieni. Dai, vieni, vieni con me. Dai. Stai zitto. Non mi passavi sempre esercitazioni di statistica a scuola? Sì. Adesso mi sdebito. Adesso io aiuto te. Cazzo, credi, che fai? Procedo, eh? Con quello che questa mi costa, pensi di potertela fare i gatti? Smettila, un mio amico è vergine. Vergine? Io lo meno lo stesso. Che fai, la usiniere del sesso? Quante volte te l'ho detto di non buttarti via così, eh? Chiuditi la bottega, eh? Non perdere la cammice. Cercai di prenderla dal lato positivo. C'era chi pagava per scopare. A me invece i soldi li davano per non farlo. Cominciai a pensare se non conveniva rimanere vergine a vita. Vergine? Ma mica è una malattia. Ma neanche una gran soddisfazione. Non è che non posso. Non voglio. Sicuro? Poi fino adesso non è mai l'alzare la pena. Tu? Io cosa? Tu come l'hai persa? Per rabbia. Ma erano altri temi, era... Per esempio, questi. Mica si vendevano nei supermercati. Scherzo. Un'erezione, 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 un'erezione triste. Ma è che gli standard delle prestazioni sessuali si erano alzati nella società contemporanea. Magari io non ero all'altezza. Voglio dire, dimensioni, durata, preparazione psicofisica. Potevo sembrare irresistibile. Emma, andiamo a preparare. Quanto ti piacerà andare in giro con la fuzia, eh? Sei tu che dici che devo passare più tempo in famiglia. Dove vai? A studiare. Ho l'esame di filosofia morale. E che sfocio ci sarebbe? Sei un ragioniere, rammentateli. Walter Verra, il giovane incazzato, prende il fucile. Eccoli pronti. Ugo, abbrigliali. Walter! Walter, Walter! Guarda qua, guarda in camera. Walter, dici, l'Italia vuole sapere perché, perché, perché hai ucciso tuo padre. Perché non gli andava giù in nice. Ecco, guardateli i giovani di oggi. Sono inquieti, sono irrequieti, sono violenti. Sono capaci, come Walter, di uccidere il padre perché non gli piace un cantante rock. E questa è una tragedia che ci tocca davvero tutti da vicino. Buona, questa era intensa. No. Grazie. Oh, ma sei sicuro di star bene? Quale figlio non avrebbe motivo di piangere i suoi genitori? Oh, vi dico una cosa. Questo qui non darà neanche un esame. Ve lo posso mettere per scritto. E il lunedì dopo, animato dai più fervi di propositi, mi recai all'ufficio del cane. Tu saresti il nuovo obiettore. Io mi chiamo Lupo. Ricordati una cosa. Gli obiettori passano. Gli assessori passano. Ma i funzionari come mi restano. Quello è il tuo ufficio. Fammi 300 copie. Eh? Ale? Si cominciava. Finalmente sarei diventato utile alla società. Fanno star bene a lui le fotocopie. Ciao. Io sono Pasquale, l'altro obiettore. Walter. Ascolta, ti dico subito che qua c'è da ammazzarsi dal lavoro. Guarda una cosa proprio fuori dal normale. Sempre, sempre che devi fare qualcosa. Non sei mai fermo. Guarda, devi occuparti dei zii, dei bambini, dei zingari, portarli a scuola. E devi stare dietro a questa comunità. E poi mai nessuno è con te. Ma la cosa proprio, guarda, più pesante è questa qua. Le fotocopie. Non ne posso più io le fare. Meno male sei arrivato te. Molto le fai te. È troppo pesante, guarda, davvero. Non le sopporto, capisci? Gli incubi. Gli incubi oggi sulle fotocopie. È finita la carta. Ancora, ma c'hai fretta. Il lavorare. Il primo impatto con il lavoro era stato davvero incoraggiante. I miei incubi cominciarono ad avere un tema ricorrente, tipo... Walter Verra, la giovane promessa, cerca un posto adeguato alle sue aspirazioni. Bene, 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 bene. Allora lei vuol lavorare per l'Air France. Sì. Come? Prego. Qua? Qui. Perché? Perché mi piace viaggiare. Voce! Mi piace viaggiare. L'Air France non è propriamente un villaggio turistico. Non è nemmeno un posto da geometra. Io sono un geometra. Davvero? In duplice copia. Per prima. Il mio compito era verificare la scolarizzazione dei bambini nomadi. Solo che le scuole non volevano bambini nomadi. I bambini nomadi non volevano andare a scuola. I genitori dei bambini italiani non volevano che i loro figli andassero a scuola con i bambini nomadi. E i genitori dei nomadi preferivano mandare i loro figli sulla strada che a scuola. Ma l'aspetto peggiore del lavoro erano le insegnanti. Oggi i bambini nomadi si sono presentati a scuola sporchi. Succede con i bambini? Sì, ma oggi avevano anche le verruche. Manderemo una visita america mercoledì. E se fossi io a prendermi le verruche? Magari. E' martedì. Martedì. Oggi i bambini nomadi sono venuti a scuola senza merenda. Capisco. Gli altri bambini hanno paura che gli rubino le loro. Secondo me dovreste comprargliele voi, le merende. Si ricorda il problema delle verruche? Le ha prese? Un lavoro ce l'hai dopo? No, non ce l'ho un lavoro. Ma che me fai? Io sto con mia moglie. Lei c'ha i soldi, mi mantiene. Ciao, moglie. Ciao. Ascolta. Eh, ti ho telefonato per dirti che... Non so se riesco a venire a casa. Più che non vengo con lei. Le fotocopie. Le fotocopie maledette. Ma guarda che non devi pensare a queste cose. Si, ti voglio bene. Si, si, si. Si, ti amo. Bacino, bacino. Ma sai che a volte veramente mi sento in colpa? Per tua moglie. Per mia moglie. Ma quale per mia moglie? Perché non riesco mai a fare i 7000 punti qua. Purtroppo la pausa pranzo finiva sempre troppo presto. Oggi i bambini nomadi sono arrivati in ritardo. Succede anche ad altri bambini, credo. Ma gli altri bambini non sono zingari. Signora. Signorina. Signorina. Noi siamo un'associazione comunale. C'era un insetto. Le odiavo io le insegnanti. Le odiavo anche i compagni di sventura che prendevano i mezzi pubblici nei miei stessi orari. E quando tornavo a casa Caterina aveva pur diritto a una vita privata. A Rinaldo quello dei biglietti gratis però non veniva mai. Devo vivere da solo. Starò la casa dell'obiettore. È gratis. Ma mi verrà e troverai. Appena mi sarò sistemato un po'. Non restare solo, Walter. Nell'ultimo decennio il vecchio stadio aveva ospitato a turno un ricovero per anziani, una scuola per disadattati e una comunità per tossicodipendenti. Nel costante miglioramento di immagine perseguito dalle autorità era stata adibita infine a casa dell'obiettore. Per un attimo invidiai Marioni e la sua camerata di allegri commilitoni. Comunque sarebbe diventata casa mia. Comunque sarebbe diventata casa mia. Ehi, i bambini nomadi non pregano all'inizio delle lezioni. Sono musulmani, signora. Ma però perché non pregano? Perché è un'altra religione. Eh sì, è certo. Cosa vuole che facciamo? Convertiteli. Provvedo subito, sì. Pronto il CIM? Centro igiene mentale? Sì, volevo sapere, è possibile un autoricovero? Sì, so di essere malato, sì. Ah, c'è la settimana bianca. E si può partecipare? Scusa. Lo faccio subito, eh? Due di ognuna. Ho visto che ti stai dando da fare. Bravo, bravo. Ma adesso ci spetta uno sforzo supplementare. Dobbiamo fare qualche cosa per gli zingari adulti. Vieni, appoggia, appoggia. Ho preparato un programma sull'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Vuoi darci un'occhiata insieme a me? Vieni, vieni. È una bella proposta. A parte che farmi mettere le mani addosso da Lupo un po' mi inquietava, la verità era che si stavano avvicinando le elezioni. Lupo e il suo assessore volevano farsi belli, perciò si erano inventati una campagna per far assumere in prova giovani nomadi additte della città. Lui si era occupato delle istituzioni. A me toccava convincere gli zingari. Non sapendo da dove cominciare, seguì quell'apparizione col bimbo in braccio. Sono del comune. È l'antenna notiziosa. Procedi. Fatima era la figlia di Ibra, il delegato del campo. La mia performance come antennista mi procurò un colloquio con lui. Fatima aveva un numero imprecisato di fratelli e comunque la porta della loro casa era sempre aperta. Ibraim si dimostrò un gentleman assolutamente inappuntato. Vuoi tu uno pulcino abbiamo qua? No, no, grazie. Vuoi uno bicchierino? Sì, sì. Salute. È molto fortissima questa. E questo dice per il stadio per fare un ballone, per giocare. Io ho detto, ma cosa non buttate le nostre case per uno ballone? Uff, ti cattavo, sono cattavili. C'è, ti c'è, c'è, ma è brutto. Ho comprato un'antenna, una satellite, ho pagato 300 mila lire per prendere Jugoslavia, per posso prendere Jugoslavia. Ma funziona bene? Ma funziona benissimo. Devevo comprare il motorino, costava 120 mila e non l'ho comprato, l'ho fatto io a manovale. Qua spingendo un po', Sarajevo, solo che non lo mostro adesso, verso le otto e mezza possiamo tenerla. Turchia? Germania e così le prendiamo, tutte le canali. Quanto ha avvento a satellite che abbiamo preso? Mi piaceva un sacco, aveva stile, sì, sì, aveva stile e non lo sapevo. In stretto rapporto la vostra gente con il mondo del lavoro in Italia. Per esempio, per esempio, tu che vuoi fare? Niente. Beviamo. Per esempio, per esempio, per esempio, per esempio. per esempio, per esempio, per esempio. Dimmi quanto mi ha vinto Dimmi quanto mi ha vinto Dimmi quanto Lo sai, si stanno sciogliendo gli anelli di Saturno Ah Vittorio, non ho mica tempo per guardare su in aria Lo so, ma è proprio così che ti fregano anche l'anima oltre soldi Ti martellano il cervello, te ne raccontano così tante Fino a levarti anche la voglia di sognare Quando nascesti te, nacque un bel fiore La luna si fermò nel camminare La luna si fermò nel camminare Le stelle si cangiorno di colore L'amore è come rillerà Dove si attacca amore Così così il mio cuore mi si è attaccato a te Era vent'anni che non lo sentivo cantare Te come? Grazie Ma che sei ancora preoccupato per tuo figlio? Oh, Varte Varte sarebbe un ragazzo in gamba Però vedi, lui ha un problema perché Lui si sente il meglio di tutti In questa maniera però si rompe coglione alla gente E piano piano e ti lascia al solo Capito? Senti, sei fatto tardi Che mi raccompagni? Ti raccompagno, ti raccompagno Grazie Meno male c'è il loro sogno Anche tu hai visto la partita ieri sera Si vede Proprio quella faccia un po' assonnata Senza offesa Perché no, io non No, io ho un bel film Mi sono visto un bel film di quelli lì Divertenti E non è molto da ridere perché era di Liga 2 Però grottesco ma divertente Poi ho cambiato canale e mi sono visto Totò Ed è lì proprio mi sono spazzato dalle risate Perché per rilassarsi una serata più divertente Non la solita serata pallosa A guardare la partita Poi mi sono letto un libro Non sapevo Eh sì Sentivo il complotto chiudersi intorno a me Sarei stato stritolato da un meccanismo omicida Otto ore di lavoro al giorno Tre settimane di ferie l'anno Avrei venduto l'unica cosa che mi era rimasta di mio oltre il culo Il tempo Sarei diventato come lui Oppure Se mi andava bene Mi sarei ritrovato a guardare la luna E a cantare canzoni d'amore ai viados sul lungo po' Fatti i conti Preferivo restare solo Io sto bene Io sto male Io non so dove stare Io sto bene Io sto male Io non so cosa fare Lo studio non lavoro Non guardo la tv Non vado al cinema Non faccio sport Lo studio non lavoro Non guardo la tv Non vado al cinema Non faccio sport È una questione di qualità È una questione di qualità È una questione di qualità Presidente Bala sinistra Cantante di Po Berlusconi Padrone Pe Fiat Sindaco Michael Jackson Pippo Bow In triplice copia per stasera E la campagna elettorale era terminata Più lavoravo più avevo incubi Più li mettevo nero su bianco più gli incubi peggioravano Walter Verra il giovane incompreso insiste nel cercarsi un'occupazione degna delle sue capacità Mi interessa il settore delle pubbliche relazioni Voce Le pubbliche relazioni mi interessa Ma non hai esperienza Come politica aziendale A noi Interessano candidati con almeno due anni di esperienza Avevo sognato la Martino e il Rosso come ultima di una serie che comprendeva Dolce e Gabbana Cecchi e Gori Alfa e Romeo Lo capisco Ormai quasi tutti lo richiedono Ma se non ti assumono da qualche parte come fa a farsela uno l'esperienza? Noi non siamo qualche parte Noi vogliamo conoscere tutto di lei Walter Verra il giovane ribelle si incazza Anch'io Prego Come l'abbiamo tirato su questo ufficetto? Bambini pakistani al nostro servizio quanti ne abbiamo? Silenzio mi faccia finire Che ditta stiamo truffando individuale pubblico o privata? Il segretario sotto questo tavolino dottor pubblica relazioni? Carponi, carpiati Chiamila segretario voglio sapere Stimonianze voglio Lei È licenziato Ah sì? Licenziato? Perché me l'avevi assunto? E quando mi svegliavo non andava meglio Nello sprint mattutino all'unico cesso disponibile c'era sempre qualcuno più veloce di me Perché uno pensa alla libertà come a un grande meraviglioso ideale Di quelli che ci scrivono sopra libri, canzoni Ma poi finisce che gli tocca fare i conti con certe questioni di cui nei libri non si parla mai Questa volta sul serio La poesia è morta Conta solo la realtà E la realtà è che solamente il 13% degli studenti italiani raggiunge la laurea E il problema è il diritto allo studio I più esposti a questo tipo di selezione sono i più deboli socialmente A cominciare dagli studenti lavoratori Walter Ecco Non solo studia Ma presta servizio civile presso un centro d'accoglienza nomadi ed extra comunitari Prima di dare la parola a Walter vorrei Adesso che cazzo dico io? Parla di te Che vuoi che gliene freghi a questi di me? Ma almeno mi conosco Tu rappresenti una condizione, capisci? Questo è un movimento E bisogna farne parte perché qui sta succedendo qualcosa Cosa? Cosa sta succedendo? Non lo so Ma questo è bello Siamo tanti, capisci? Diversi ma tutti insieme Concludendo Cedo la parola a Walter Ah sì Loro erano tanti, tutti insieme Un movimento Ma io per loro ero qualcosa di più di un caso esemplare E poi la poesia era morta Comunque Per uno nella mia condizione L'occupazione aveva dei vantaggi obiettivi L'occupazione Non sapevo che cazzo farmene dalla politica io Che c'era da dire del resto? Quelli dell'est passavano all'ovest in cerca di porno shop e di supermercati Finalmente liberi di comprarsi i cazzi di gomma da mettersi nel culo E ritrovarsi disoccupati pure loro Il Dio denaro aveva vinto dappertutto Mio padre era sempre stato di sinistra Ma in che cosa era diverso dagli altri? Era questo il migliore dei mondi possibili Purtroppo Mio padre era sempre stato di sinistra Mio padre era sempre stato di sinistra Ciao, ti ricordi di me? Ricordavo sì. Proprio in quest'aula. Anche tu nell'occupazione? No, ero solo curiosa di vedere cosa succedeva. Io ho altri interessi. Tipo? Fare quello che mi piace. Ci viene a casa mia. Tu vivi qui? Finché non trovo un appartamento in città. Mio padre, notaio. Ah, aspettami di là. Ti raggiungo dopo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sennò va bene, l'ho detto bene. Ha mangiato tutto il suo cuore. Come si è mangiato? Ha fatto la verità? Eh. Ah sì, mi ha telefonato la Bibbia e ha detto che è stato un disastro. Hai chiamato? Sì. Ma cosa vuoi che ne sappia quella? Salve, sono un amico di Beatrice. Oh, uno nuovo. Ciao, qui sono Titti. Giugi. Bobby. Umbi. Walter. Vuoi qualcosa da mangiare anche tu? No, non ho più fame. Ma che dici, senti? È che trovo appassionante la materia. Sento cielo, ho 33 anni. Non prendo più le coppe. Oh, la cocchina della mare. Bentornata. Perché? Non ti piace qui? Sì, sì. Bel posto, bella gente. Ed io ti piaccio? Sì. Vorrei andare a letto con te. Sì. Ti va? Paura. Sì, sì. Paura. Avevo paura, ma la desideravo troppo. Che cazzo avrei fatto, superato quella porta? L'avrei penetrata? Mamma mia. Faceva ridere solo la parola. Ti posso penetrare, amore? Amore? Sei felice, Dù? Ma tu mi stai prendendo per il culo. Scusa. Cognome? Lamine Jussou. Nata a Dakar, 25 05 67. No, no, lascia. Fotocopie le faccio io. Sono state qui i tuoi, Domenica. Tuo padre mi ha chiesto due notizie. Deve essergli costato parecchio. Perché non lo chiami? Gli manca. Non ci credo. Quanto tempo ti resta da fare di servizio a Ciline? Cinque mesi. E poi? Non lo so. Perché? Così. Non è che stai cercando di dirmi pensa al tuo futuro, Walter? Ci pensano tutti al futuro. Farebbero molto meglio a pensare a ciò che gli capita tutti i giorni. Walter Verra, il giovane disoccupato, trova finalmente un'attività adatta a lui. Alle sue aspirazioni, alle sue capacità, alla sua voglia di affermarsi. Un lavoro all'aria aperta, a contatto con la gente, sempre in giro, stimolante, stimolante e ricco di incontri. Salve, giovane filippino. Tu che al contrario degli schiavi dell'Ottocento non vieni a noi in catene, ma liberamente pagandoti da solo anche il passaggio aereo. Non trovi che in questo mondo tutto funzioni proprio bene? Che ciascuno stia al suo posto se ce l'ha e se no fa le scarpe a qualcun altro? Perché invece di abbracciarti, fratello di sfiga, guardo con invidia la tua efficiente palettina mentre io col mio giornale dell'altro ieri spero che a Oton, qui accanto, siano passati i disturbi intestinali che... Fasquale. Ciao. Ho saputo che fari coccosti anche tu. Eh, ci provo. Tua moglie? Si è messa con un camionista. Mi dispiace. Vai, vai. Adesso va, va. Che lupo mi ha chiesto di fare queste foto co-op. Ormai ci mancava solo che gli elucidasse la scrionia. Spera, Yuri, spara. Spera, Yuri, spara. Spera, Yuri, spara. Spera, Yuri, spara. Uscì il bando di concorso per 30 posti di segretario comunale. Era come un telequizio. Salvo che nel cosiddetto mondo del lavoro i milioni te li davano a rate. Un tanto ogni mese per tutta la vita finché un ictus non ti beccava tra una richiesta di carta igienica e l'altra. Domanda. Cosa sono i mitili? Risposta. A. Soldati dell'antica Roma. B. Molluschi marini. C. Persone umili e miti. La chiamavano prova di cultura generale. Confrontai le mie risposte con quelle di Pasquale. Erano assolutamente identiche. Però nella graduatoria lui era ammesso alla prova orale e io no. Complimenti. Una canzone, una Ida, o un blues, o un jazz. Insomma, qualcosina ti vuol sentire? Insomma, se... Il servizio civile stava finendo. Poche settimane mi sarei di nuovo trovato senza un cazzo da fare e con l'orrenda prospettiva di dovermi trovare un lavoro. Perché sul giornale lessi che il salone del libro cercava collaboratori. Per uno come me, un'occasione imperdibile. Mi presentai più impeccabile che mai. Quanti esami hai sostenuto? Quattordici. Medio? Trenta. L'altro ieri ho rifiutato un ventotto, poiché... Fidanzato. Bella questa ciocca bionda. Lascia stare. L'ho fatta io. Va bene. Il lavoro comincia tra due settimane. Lei si occuperà della reception. Un lavoro delicato. Molto delicato. Ci vediamo. Caro. Speriamo di no. Grazie. Un lavoro delicato. molto delicato. Distribuire valigette in polifibra ecologica biodegradabile ai visitatori professionali. Librai, scrittori, editori... Buongiorno, sono un'insegnante. Vorrei una valigetta. Mi dispiace, non sono autorizzato. Le diamo solo ai professionali e le insegnanti non rientrano. E lo sapevo. Siamo sempre le più bistrattate. Dal ministero a questo cazzo di salone. Comunque, nelle valigette c'è soltanto il catalogo del salone. Se vuole, quello glielo do. Così. Ma che catalogo è catalogo? Io voglio la valigetta! No, no, no. Non si permette. Mola! Avevamo l'ordine tassativo di non litigare con nessuno. Perciò certe volte finiva che bisognava cedere. Ed era anche peggio. Prima mi avete detto che all'insegnante i valigette non le date. Esatto. Allora, come mai questa mia collega ce l'ha? Ma io non l'ho già vista da qualche parte. Cosa cazzo se ne facevano delle valigette? Prego. Lei l'altro giorno mi ha dato una di queste valigette, si ricorda? Ma io ho due bambine. L'altra sera hanno litigato perché c'era una sola valigetta. Lei dovrebbe darmi un'altra valigetta. Ma certo, la scelga pure, è verde o nera, guardi per me. Grazie. Allora. Che fa! Ciao. Ciao. Ho pensato chi avremmo potuto fare conoscenza. I've been observing you in these days, you and your valigetti. Yes, yes. I'm sorry, by the way, my name is Susan. Walter, Walter. Walter, pleased to meet you. Some people are really terrible, thank you. E va, storia d'amore interrazione. I don't need to be fresh or, as you say in Italian, sfacciata. Sfacciata, sì. Dillo, Susan. Lei ha un valigetta per me? Cominciai a considerare i libri da un altro punto di vista. E se ci potevo portare a casa la pagnotta, per esempio? Chissà quanti di quegli scrittori lo facevano. Perché non potevo provarci anch'io? Qualche settimana dopo dovetti mollare anche la casa dell'obiettore. Un anno di servizio civile se n'era andato e nella mia vita non era cambiato niente. Ritornai a casa dove fui accolto con la consueta giovialità. Quando nascesti tu, l'acqua è un bel fiore. La luna si fermò dal camminare. Le stelle si cangioro di colore. L'amore è... Il giorno dopo la zia morì. Un incidente. Uno della mia età col cabbio del padre non aveva rispettato la precedenza. Si moriva così. E poi non restava più niente. Niente. La figura di merda ci fa affare anche da morte. Tutti questi individui maschi. è il giorno. È il giorno. È il giorno. È il giorno. Grazie a tutti. 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 Valeria. Vai? Vado. Resta. Resta. Ancora sui libri. Ci provo tu? Non noti niente. In che senso? Davvero, davvero, davvero non noti niente. Davvero, davvero, davvero no. Sono incinta. Mi sposo. Mi sposo. Mi sistemo. E con chi? Con Giovanni. Lui. Aiuto. Ciao, amore. Ciao, amore. Ciao, amore. Ti ricordi di Walter? non è un po' di sì. Allora sì, volevo sottolineare certamente che Tommaso d'Aquino per la società... Va bene. Se trovo il foglio ve lo faccio. Sei cambiato? Anche tu. Pensavo che avessi mollato. Come ti va? Bene, sono all'undicesimo esame. Complimenti. E l'occupazione? È successo poi quello che doveva succedere? È difficile spiegare, vedi? Ho capito che bisogna avere un progetto di più ampio respiro. Agire anche sul contesto. Perciò mi sono iscritto al partito. Mi sono iscritto al partito. Quale? Non scherzare. C'è bisogno di serietà adesso. Un lavoro. Ecco quello di cui c'è bisogno, non serietà. Prova in questo posto. È di un'amica di mia madre. So che cerca un commesso. Giurai a me stesso. Ce la farò. Non ce l'ho fatta. Allora cosa dite? Diciannove. 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 Lei ha frequentato durante l'anno? Sì. Ho anche comprato il libro. A dire il vero, lei non la ricordo. Succede. Almeno non mi vede mai nessuno. Torno al prossimo appello. Meglio? Sì. Molto meglio. Grazie, è stato un piacere. Prego. Buongiorno. Non è che ha qualcosa per me, lei, no? Sì, effettivamente. Prego. Grazie. Buongiorno. Avanti il prossimo. Il mio racconto era stato accettato. L'avrebbero inserito in una raccolta di giovani scrittori perché, dicevano, era molto rappresentativo di una crisi generazionale. Ma vaffanculo. Non dovevo sbagliare. I soldi, naturalmente, neanche parlare. Sì. Ah, buonasera, lei deve essere Walter, vero? Sì. Il ragazzo che mi ha raccomandato Marisa, vero? Io sono Alberta. E lui è Cassietto. È un armadillo. Non c'era nessuno a Torino un armadillo. Cassietto, fai ciao a Walter, il tuo nuovo amico. Beh, io ho da fare. Adesso richiamo Marco così le spiega tutto. Lei resti qui, Marco. Marco, a volte ritorno. È così che la mia vita da uomo libero è finita. Ho cominciato a fare il commesso. Cosa? Sì, 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 faccio il commesso. Non ho capito. Il commesso, sì, io sono un commesso. In negozio vendono anche il libro dove è pubblicato il mio racconto. Guardo quelli che lo comprano e mi chiedo che penseranno leggendo. Me? Me come persona intendo. Di sicuro non mi vedono nemmeno. Alla prossima. No, non c'era scampo per nessuno. Anche nei sogni delle zingare c'erano i reggiseni a incrocio magico. Anche nei sogni delle zingare c'erano i reggisciati. 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 Adesso? Ma si. Se ne andassi a far culo il reggisciato a incrocio magico, il supermercato e anche cassietto. ti è. No, no, no! No, no, no,no! Oh! Nooo! e visto che c'eravamo se ne andasse a fanculo anche la virginità ecco qui come in un racconto di eminway torrido fatale indimenticabile grazie fatica adesso so cosa significa eiaculazione precoce che puttana allora walter ci è riuscito la presa il cassetto l'ha visto non lo trovo più oh dico ma sta bene walter ho perso la virginità questa questa me la raccontavano alle elementari dunque ci sono due topini che guardano il cielo in una notte d'estate passa un pipistrello il primo dopo dice all'altro guarda un angelo dopo tutto questo tempo forse ho capito che voleva dire davvero quella storiella e cioè che per quanto schifo faccia la tua vita puoi comunque sognare di avere un paio d'agli e di volare solo che la parte più difficile rimane staccarsi da terra vuoi vedere che alla fine ha sempre avuto ragione lui cascasse tutto l'armamentario stellare si facesse finito una volta per tutti ce li siamo sì lo so devo tenere duro e non dargli l'avento ci saranno milioni di stelle solo in questa classe certe sere sembra che a rizzarsi in punta di piedi sembra di poterla acchiappare ma tanto quei di home e noi non ci arriveranno mai ha mai sentito dire te d'un figlio d'un operaio che diventa astronauta eh? sì proletario nello spazio guarda che forse le stelle sono più belle viste da lontano casca il mondo casca la terra guarda che animali stronzi c'è in circolazione in questo momento storico ma vaffa i figli degli operai i figli del bottegai i figli di chi è qualcuno e di chi non lo sarà mai come mai fiscali tais sport Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.